6 caffè, 6 solubili, 5 infusi in foglia, 17 prodotti di altissima qualità. La nostra capsula, quadrata, brevettata in tutto il mondo, 100% compostabile, realizzata solo da prodotti vegetali. Le nostre macchine, tecnologia italiana, sono completamente customizzabili per qualsiasi esigenza. Un gruppo, due capsule, due gruppi, quattro capsule, tre gruppi, sei capsule. Lancia vapore, acqua calda, caldaia da 1, 2 o 5 litri, manuale o automatica. Con le macchine di Caffè d'Italia risparmi il 50% sulla bolletta elettrica. Caffè d'Italia, chiunque, ovunque, sempre uguale.